Ciao a tutti, sono VeryPixSax, torno al riassuntone di American Horror Story Hotel, episodio numero 6 Parliamo, parliamo, parliamo! Allora, secondo me questa serie si dovrebbe dare una smossa, stiamo andando in coma irreversibile, non ci siamo, non ci siamo Iniziamo subito col dire che questa puntata è stata un'altra noia, non se ne può più Allora, sì, c'è il collegamento a Morderaus, ho iniziato la puntata con questo collegamento e ho fatto Wow, che bello, Morderaus è la mia serie preferita E quindi ho detto, ok, vediamo come si evolve In realtà sono rimasta molto, molto scontenta, delusa, perché il collegamento è veramente piccolino Lady Gaga va lì, vuole abortire, in realtà quello la fa partodire, c'è sto ragazzino che è una mezza specie di anticristo Lei è rimasta incinta e lei è un vampiro, quindi è nato questo bambino vampiro Però sinceramente questa idea mi è sembrata molto copiata dal finale di Morderaus Però, che noia Quindi non mi ha convinto, non mi ha convinto il collegamento, avrei voluto qualcosa di un pochino più sostanzioso Tipo, che ne so, Lady Gaga è stata sposata con uno dei personaggi che conoscevamo già in Morderaus O, boh, non lo so, qualche personaggio che avevamo già visto E in realtà era suo marito, quello tanto decantato Oppure lei è stata trasformata da un personaggio che già conoscevamo Mi aspettavo qualcosa del genere E invece no È praticamente solamente un luogo Quindi anziché lì, da un'altra parte, boh, l'ho trovata una cosa veramente troppo flebile Inoltre anche questa cosa del ragazzino a me sinceramente non è che mi convince Sembra un'esperienza veramente tipo là Mettiamoci una doppa, aggiungiamoci questa cosa in corso Si vede che non è stato pensato dall'inizio Perché ci sono veramente dei buchi macroscopici di trama Quindi, boh, sinceramente non lo capisco Non lo giustifico molto Non mi capisco il senso Visto che Lady Gaga viveva per questi ragazzini vampiro a quanto pareva Invece no, vive per sto ragazzino Quindi, boh Sembrata buona, cosa un po' ammettice una pezza Inoltre c'è l'altro esperiente Molto Rosemary's Baby Ovvero mai far vedere sto ragazzino Sto ragazzino è l'anticristo Però mai farlo vedere Se è un'esperiente perché così almeno Non è che devi pensare che immagine deve avere sto bambino Se deve far paura di immagine Oppure essere assolutamente un bambino normalissimo E quindi insomma vai sul sicuro Non lo fai vedere e tanti saluti Però sinceramente a me non ha convinto per nulla questa cosa Perché un'ora così non la puoi reggere Già dall'inizio noi Voglio vederlo Poi magari almeno questo ragazzino va Passa Cioè Poi sembra super forte di aver fatto del male A Angela Bassett Però allo stesso tempo sembra talmente piccolo Che sta andato a nascondere tra l'erba Boh Sinceramente non mi convince per niente questa cosa Secondo me un'ora così non la si può reggere Se poi tutta la stagione sarà così Che non si vedrà mai questo bambino Anche perché se tu non lo fai mai vedere Diventa una cottura di palle Rompi tutto quel coso del mistero che c'è Perché uno non è che può stare con tensione Per dieci ore di stagione Dall'altra parte se tu non lo fai vedere per un sacco di tempo Quando lo fai vedere la gente ha un botto di aspettative Quindi qualsiasi cosa tu farei vedere Molto probabilmente rimarremo delusi E quindi boh Non mi è piaciuta questa cosa Poi c'è tutta l'altra questione Lady Gaga finalmente riuscì a sposare con quello Però veramente è una trama secondo me molto flebile Quello è gay Insomma mi piace perché la trovo veramente molto tirata Troppo per anche questa Troppo stiracchiata Qualcosa che non mi convince Sempre in questo episodio c'è il racconto dedicato alle due ragazze svedesi Dupal Potremmo dirlo troppo lungo Ma chi se ne frega Sono dei personaggi che stavamo già tutti dimenticati Che non ce ne frega niente Passiamo alla vera protagonista della puntata Il personaggio di Crossy Vigny Che è una merda epica Sei una merda Punto Lei praticamente sta a far guattere dalla Lady Gaga Ha abbandonato la figlia da la nonna Abbiamo capito Gli ha fatto poco tanti saluti Però non si è capito la figlia Stava da nonna Da nonna Poi dall'amica Boh Ma al padre gli viene in sogno il ragazzino E scopre le bare Allora lei si fa aiutata Lì si fa No no Nascondi tutto Nascondi tutto E insomma dice Fammolo passare matto a questo Bla 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 Si diverte con quelle là Le tu svedesi e fa Dai su Fatelo diventare matto Ma perché? Ma che t'ha fatto stuomo? Santo cielo E' purello Quello là semplicemente Ma aveva fatto una telefonata Per il ragazzino Stava ai giusti Se deve vedere Tu perde Il ragazzino A fiagonia A moglie che è una stronza epica Cioè sinceramente Boh Poveraccio Il partito scappa Vabbè Il ragazzino della Lady Gaga Se nasconde nella valigia Quella è veramente Un espediente di trama Veramente molto Tirato per i capelli Possiamo dirlo? Non convince cari Lui spara sto ragazzino La fiagonia dice Oh sei fatto papà Sei fatto papà E boom Risbuca fuori Closive in niente Cioè era irreparibile Tu fiagonia No Non rispondevi Non si sapeva Non stavi Ma logicamente Sarei a farsa E i ragazzini Vabbiro Che fine hanno fatto Hanno smesso di mangiare sangue Cosa veramente poco probabile Quindi qui c'è un buco Cari miei Inoltre c'è un altro indizio Quello che avevamo già scoperto Secondo me Noi In puntate In puntate precedenti Ovvero che molto probabilmente Il detective Il nostro amato detective Odiato da moglie Da tutti In realtà probabilmente È lui Il serial killer Visto che è andato in un posto Non si sa perché Non si sa per come Che in realtà È il luogo Dell'altro omicidio E quindi Come faceva a sapere Di questo luogo Come fa Sapeva che c'era Stato un altro omicidio Beh era lui insomma Avevamo capito Ryan Murphy Avevamo capito Ma terriamo a Loro si venire Una stronza epica Veramente Su sta puntata Un odio Veramente Un odio Un odio Un odio Anche la dica Che si carica Un giusto premio Stronza Di questa puntata Visto che Valili Stelor Che si era innamorata Tittrichsen C'è addirittura Una scena D'amore omosessuale Che credo che in Italia Verrà trasmessa Da Rai 1 Nel 2173 Non lo so Su Rai 1 Per carità Pure alle 2 del pomeriggio Ve vedete tutti Guai se sia una cosa Non religiosamente Approvata Solo certi buchi Sono ammessi Insomma La dica che è una stronza E si è giocata La fiducia di Litz Litz era lì Che faceva tutto per lei Si sentiva in colpa Per essere innamorata Insomma Tutti la odiano L'unica che gli sta ancora apprezzo La dica che è Il Closy Vignè Una gretina Che gli salva il figlio Va lì da La dica che fa No ma non ti preoccupare Tu hai salvato mio figlio Ma ha salvato da che? Stava tanto bene con voi Ha trascormato un vampira E va fatto un passi per anni Per dire Oh Dio dove sta onde? Dove sta onde? L'ha salvato What? Inoltre ti tratta come la sguata E la testa lì E lecca gli al culo Au Ah gretina Boh O c'è tipo un suo piano malefico Che vuole Ucciderla Non lo so Non lo so Sinceramente Oppure Sinceramente Non ha molto senso Tutto ciò Cioè È un personaggio Moscio 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 Che sta lì Cioè Dieci fa Capita solamente col marito Che quello è uno scocciato Poraccio Non ce la fa più Buttato fuori dalla polizia Rapia godia Amo io godia Senza alcun motivo Sei innamorato D'un fantasma Non lo so Che io Manca sto dizio Ce la tutte Insomma Questa puntata è stata veramente Non mi è piaciuta per niente Stiamo andando verso il precipizio Però il punto è che Lady Gaga Da S La gavetta Stai assodiata da tutti Quindi secondo me Tutti vogliono la sua testa Closimini È una stronza Appunto Almeno in questa serie Poi nella sua vita Di tutti i giorni Non lo so Però è un personaggio Stronzo Moscio Che è ancora peggio Perché io i personaggi Stronzi Li adoro Però i personaggi Stronzi Che mosci No E quindi sinceramente Il collegamento A murder house Mi ha deluso Il bambino Demonia Un pochetto Mi ha deluso Perché secondo me Questa esperiente Del non te lo fa muovere Non te lo fa rimuovere mai Poi te lo fa muovere Ed è una cagata Non mi convince del tutto Closimini Dupal Cioè ogni volta che compare Può è una mosceria Oppure fa una stronzata epica Contro quel poveraccio Non so Lo odio Armarito Ma perché te ci sei messo insieme Perché te lo sei sposato Poi torna a casa All'isola Per rompire i coglioni Armarito Quindi sei matto Sei matto E la bambina Dove la lascia Con la porticuta E nonno Piazza Nonna Ciao Bella Cioè A via spedita Così proprio Levate da cazzo Ma le mie Sinceramente Questa puntata E' veramente Sampra più Prer E sapere voi Che cosa ne pensate Se anche voi fate video Perché ovviamente Alcuni che mi seguono Fanno anche loro video Su Americano Rossori Se volete Linkatemi Tranquilamente Qui sotto Molto probabilmente Andranno nello spam Quindi io li dovrò attivare Voi avvisate Grazie mille Per aver visto questo video Grazie mille se siete iscritti al mio canale Grazie mille Se vi è piaciuto il video Avete messo mi piace Siete molto gentili Qui sotto trovate il link Per tutti i miei social network Se vogliamo continuare a parlare anche lì E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao